Manoel, primo anno da professionista, hai iniziato più tardi rispetto ai compagni, venivi da lunghissimo infortunio, lunghissimo anche. Come ti trovi adesso? Ora sto crescendo di condizione, mi sto mettendo a disposizione, da parecchio che comunque non salta un allenamento, quindi è inevitabile che la condizione cresca. Come avete detto voi o hai detto tu, è normale, non si fa la preparazione, quindi si arriva un po' più in ritardo alla condizione, ma in questo momento bene. Per quanto riguarda il primo anno da professionista, si stanno incontrando le difficoltà che ci si potevano aspettare, ma bisogna comunque farsi trovare pronti il prima possibile per tutte le evenienze e gli ostacoli che ci sono e mettersi a disposizione del gruppo, della squadra. Tu, diciamo, come ruolo di partenza saresti un terzino sinistro più una difesa a quattro, adesso con noi ci siamo passati alla difesa a tre che poi difende a cinque, tu la sinistra come hai fatto contro la vita di Sande nel secondo tempo, come ti trovi? E poi quali sono le due caratteristiche migliori, quelli che pensi ancora di poter, o di rover, ancora mostrare o più di due raggiungere a sé? Come naturalmente sì, nasco da terzino sinistro, quindi per forza di cose in un 3-4-3 sono un quarto di centrocampo a sinistra. Poi è normale che durante la partita, in base ai problemi, agli fortuni che ci sono, si può giocare anche a tre, perché comunque è un centrale diverso, un centrale che tende a entrare dentro al gioco. Come qualità, per il ruolo che ho, è molto importante avere una buona condizione per dare nei 90 minuti una spinta, soprattutto in fase offensiva, soprattutto quando si gioca a quattro, quindi credo questa, una qualità comunque di spingere, di essere una spina costante nel fianco degli esterni avversari, delle difese avversarie. Che cos'è cambiato da Eter? C'è un cambiamento di aggressività, molto sui portatori, ognuno comunque fa quello che deve fare, ripeto, siamo molto più aggressivi, più corti in un certo senso e quindi anche in questo senso, come è successo nell'ultima partita che abbiamo subito poco, abbiamo preso pochi di rinporti, è dovuto anche a questo, perché comunque c'è una fase difensiva di tutti che sta crescendo e quindi questo, però tutto questo. Come a livello di impatto anche psicologico con il professionismo, come ti sei trovato? Hai avuto qualche difficoltà particolare? Forse, tra virgolette, la difficoltà più grande, ma ripeto, tra virgolette, è quella comunque di giocare davanti a tantissime persone, è questa, ma a livello di gioco sono abbastanza tranquillo, sia negli allenamenti che per quel poco che sono riuscito a giocare, visti comunque anche i problemi che ho avuto prima, non penso di aver avuto grossissime difficoltà da questo punto di vista. Più che altro è ritrovare un equilibrio con le pressioni che ci sono date da fuori, con la piazza e questo, però per il resto, anche perché negli anni precedenti sono sempre stati in ambiti di prima squadra, a livello di gioco non penso di avere quelle grossissime difficoltà, è più un discorso fuori dal campo in un certo senso. Sabato che aspetta Francavilla, partita già difficile, poi martedì subito un'altra partita contro il Monopoli che sta andando fortissimo, il Monopoli contro tutto, sabato riposerà quindi arriverà fresco, quali sono le insidie per il Catanzaro in queste due partite, non sono a livello fisico? Le insidie ci sono e soprattutto ora andiamo ad affrontare Francavilla e dobbiamo dare un seguito a livello di prestazione soprattutto, poi ripeto non è neanche semplice perché comunque siamo pochi, mentre servirebbe l'aiuto di tutti, ma non solo per la partita ma anche per prepararle, per allenarsi bene, a mettere la qualità dell'allenamento ed è una cosa che in questo momento ci viene difficile, quindi arrivare sicuramente corti a livello fisico come hai detto tu è un fattore che ci può stare, ma ci stiamo allenando bene per essere preparati appunto a questi incontri ravvicinati, poi squadre come il Monopoli che sta andando forte, magari ci motivano di più a fare meglio e a dimostrare che possiamo fare bene, possiamo fare bene ecco, comunque dare una continuità alle prestazioni, questo è l'obiettivo nelle prossime. Va bene, grazie.